Voi del PDL siete al lavoro con i congressi comunali? Sicuramente nei mesi di marzo e aprile si celebreranno i congressi comunali in tutte le realtà dove il PDL è presente e sarà un'occasione importante per chi non è riuscito ad esprimere completamente il suo potenziale nel congresso provinciale che è stato appena celebrato per, mettiamola così, rifarsi o continuare a mantenere un certo rapporto di forza laddove ha un consenso sul territorio o nel proprio comune. Il segnale forte viene sicuramente dai giovani nel senso che stiamo preparando anche in vista delle amministrative una serie di giovani che si candideranno in lista e sicuramente si approcceranno in una prima fase nei congressi comunali. L'importante e l'aspetto da sottolineare è che i giovani di 20 anni si mettano in gioco proprio per entrare nel segno del rinnovamento, dare uno slancio importante a questo partito che per troppo tempo è stato visto come il partito di plastica, che per troppo tempo è stato visto come il partito dei potenti e dei padroni e questi congressi daranno finalmente la possibilità a chi vuole mettersi in gioco di confrontarsi con il consenso sul proprio territorio.